VELOX Ho pensato di aversi fatto dire Che è e io dovevo dire VELOX è stata una cosa veramente imbarazzante Comunque è bella raga E oggi siamo qua, la lobby si è svuotata Siamo qua a fare una sfida abbastanza particolare Che è quella che ha lanciato mio fratello Che è quella appunto della Headshot Challenge Faremo una partita su salvaguardia e dobbiamo provare a fare più headshot possibili Lui ne ha fatti 53 Proviamo, non dico a batterlo, ma almeno a fare una bella partita Fare un po' una sfida tra me e Leo Dio boh, non mi sono dimenticato di mettermi l'ondata di calore Era tre ore che ci pensavo, però vabbè Eh, potrebbe esserti Costarti la vita Costarti la partita, l'ondata di calore Almeno alla fine ho la scusa pronta, eh Ma Leo aveva l'ondata di calore Ne ha fatti di più La prenderò due volte in tutta la partita Comunque io gioco con lo Sheiva Perché non ho il Garand Vabbè è uguale, quanto tira un colpo in testa è la stessa cosa Anzi Ce l'ho anche io lo Sheiva, potrei E niente, salvaguardia Una bella partita, siamo un 3v4 Sì, l'ho giocata tipo tre volte in vita mia, salvaguardia Tipo come spawn e cazzate varie Non ci sto proprio, però Proviamo ad avvalerci Ma mi preoccupa questo, ho quattro nemici No, 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 chi è questi che Giocano con le scosse? Oddio Ho fatto un random headshot Ho sparato a caso e ho fatto un headshot Sono tutti intorno al robot a lanciare No, no, tu non hai capito che sto girando la mappa E' pieno di scosse e di mine Cioè stanno riempendo la mappa di mine Sono tutti intorno al robot a riempirlo di mine Mi sto preoccupando, seriamente Ma dove cazzo? Ma come stanno giocando questi individui disturbati? Sono Hanno robot pieno di mine Guarda lì Guarda lì che le piazzano ovunque Sì, vero, mamma mia Cioè è pieno di mine È pieno È pieno Mamma mia, io non so se è normale questa cosa in salvaguardia Io non ci ho mai giocato E cioè vai Oddio Non riesco a prenderlo questo qua Sali nella casa, non riesco ad arrabbiarmi No, vabbè, no Non puoi capire quanto ho turnato questo tipo Penso che adesso l'avranno tipo diseredato La casa sua La sua famiglia È qualcosa di impossibile Commettere così tante scosse Puttano, sta facendo un fotio di edge Ma poi le aggiornano col muoversi del robot Cioè le spostano Sì, vero, le tolgono e le ributano Sono abbastanza Siamo gli unici due della squadra Che abbiamo killato Non vorrei dirti C'è uno Oh, non me ne ero ancora Con la balestra che mi stava inseguendo Ma muori Oddio, basta Ma è vero che le aggiornano le scosse È assurdo Ma guarda Fanno proprio schifo Mi tirano le scosse Madonna Cioè, loro vanno avanti col robot E più vanno avanti Più tirano avanti le scosse È qualcosa di mai visto Io spero che non sia sempre così Fortunatamente non gioco questa modalità Un headshot C'è uno con la mazza da baseball Cazzo Non mi ha preso a colpi di mazza da baseball Perché gli ho fatto hit marker Questa è un'umiliazione Io l'ho preso 20 volte Ha fatto tipo lo slalom tra i miei colpi Ma sai che Sai che questa è una delle modalità Secondo me più sbagliate Per fare questa cosa Perché dura 8 ore Ma non c'è una gestione della mappa Cioè, i nemici corrono in giro Ti levi Il mio compagno che lo ammazza da baseball Vero, non c'è un modo Per avere la situazione sotto controllo E per avere dei gunfight Non puoi metterti da lontano a mirare Perché questi corrono per la mappa E poi comunque se giochi in un'altra modalità Puoi trovarti in situazioni di uno contro uno Qua invece sei uno contro cinque Sì, qua sono 800 Tutti addossi al robot C'è come cazzo Proprio facile, ecco Dove cazzo sono Ti aiuto Muori Ok, vedi, vedi adesso Ne ho beccato uno da lontano Io lo fai più facile Il problema è quando sono tutti a fianco Che corrono Non neanche se lo scosse E anche le mine a pressione Cazzo Madonna Guarda come salta sto canguro Partita imbarazzante No, però non facciamogli portare Il cazzo di robot a No, no, assolutamente Se no, c'è già Non ne stiamo facendo Se è più dura un attimo Cercando di tenerlo qua Nella casa il più possibile Se no È finita Ma Vorrei scappare gli elzor Sto cazzo Dei tipo Muori merda Ma è una mina Ma chi cazzo è quello con il ripper? Guardate là sotto quante kill Oddio, ma sta arrivando il robot? Sì, sono la Tutti da robot sono E va bene di portarlo Ci facciamo 800 elzor Perché arrivano tutti qui Uno da dietro Uno da dietro Uno da dietro Raga, sto morendo in continuazione Da dietro? Sì, uno si è messo in fondo Lì a camperare Ok, l'ho ucciso Quals'ho più headshot Godo Questo con l'ammazzata baseball Gli rafficco su nel retto anale Sto qua in fondo E gestisco la situazione da in fondo Non c'è molto da fare Provo a fare headshot da qua Da lontano Così Muori bastardo Un po' più calma Mamma mia Andare vicino al robot In situazione di uno contro uno È infattibile Davvero Ma è veramente una cosa un po' Non è proprio una scelta azzecata Quella di fare questa moda No, no, no Ma questo che gioca con la balestra Headshot vai Andiamo qua sopra Può arriva il robot Oh, aiuto Sono circondato di nemici Io quello col cecchino Quanto si muove Fermati un secondo Ok No, no, no Mamma Che partita da Bastardi Quanti headshot sei più o meno Non siamo tanto diversi di punteggio Sarò dieci Io non so quanti ne ho fatti Sinceramente Non ho fatto tante kills Guarda lì Ma sono i due che fanno il giro dietro Aspetta che qua mi faccio Bell headshot uno No, vabbè Ma hanno lanciato la mina pressione da sotto Godo Comunque sta durando veramente un botto sta partita Eh? Dico che se continua così dura un botto Ma sta già finendo il round Sì, ma è durato Guarda che ce ne saranno quattro se pareggiamo Sì, è vero Se fanno venti minuti di partita Veramente, cioè Sono tanti, eh Dov'è questo? Oh, ti fermi Ma porca dico la vacca Oh, ragazzi C'è uno che sta scappando Letteralmente da me Guarda come corrono 15-9 Sta diventando una partita davvero epica Ma allo stesso momento Fastidioso Ok, finito il round Ma ti ho fatto? Io mi sa tipo Una decina Ma forse di più di una decina Che tanto Nel senso Io 12-13 Non ne ho uccisi tanti senza headshot Sinceramente Senza headshot ne avrò uccisi Sì e no Tre Non lo so Non lo so Fai conto che se ne fai 15 di media round La facciamo durare 4 round Sono 60 Sì, vero E non sono tanti i 15 Cioè, sto round Io non so te Ma io non l'ho giocato bene No, io l'ho giocato proprio male Ho fatto tipo 3-4 morti di fila Non ammazzavo nessuno Poi ragazzi vedo un attimo Se tagliare il video Lasciarvelo per intero Non so come lo preoccupare Ma ti conviene tagliarlo Perché su 20 minuti di video Diventa un po' noioso Infatti fare qualche taglio Quella Quando magari la partita Si fa un po' noiosa Tipo prima che ho fatto 4 morti di fila Un piccolo taglietto Ora guardalo C'è Toddo 5-2-5-1 Che campera col Gorgon E vabbè Questo qua dovevo prenderlo così Perché la testa era nascosta dal muro Ma è possibile Guarda Gorgon Madonna quanto l'ho spaccato questo tipo Ok headshot Headshot Non mi è rubato quel headshot Questo qua che fa Headshot mannaggia Tecola Give me your fucking brain Oddio Speriamo che i nostri compagni Non siano troppo affamati di robot Oddio quanti No Per un millimetro Cazzo Se portano robot è un problema Stanno portando il robot Effettivamente qua Non avevo dubbi Si fa problematica la cosa Sembrava troppo bello Per essere vero Farla durare tanto Poi quando gli richilli tutti Diventava facile portarlo C'è loro hanno noi Che gli richilliamo Loro hanno noi Che giochiamo Sto sagadino 91 Ma ha rotto i coglioni Hanno noi Che stiamo praticamente Giocando solo per killare Quindi gli liberiamo le zone E per loro è facilissimo Portarlo Cazzo No speriamo non lo portino Anche perché se vinciamo ora Non so Se ci sono i supplementari Eh si Mi sa che finisce Dai compagni di merda Lasciatelo stare Ma seriamente Oh mamma Ma tanto Secondo me non lo porteranno mai Là dentro Vediamo un po' Come sono messi i nemici Guarda non avevo dubbi Quante volte mi ha ucciso Sagadino Non puoi capire Ho fatto 4 hit marker Non so come è possibile Sette volte su quindi Ma seriamente Ma ci sono certi nemici Che non vanno giù Quel sagadino No 4 hit marker col Garand Non so cosa è successo Si è bugato il gioco Cosa 4 hit marker ha un nemico 4 hit marker col Garand 4 hit marker Cioè o c'era qualche spessore invisibile Che lo bloccava Ma è impossibile Non lo so C'è L'unica cosa che mi venite a pensare Cioè Ma vai a cagare Guarda Put Come elegantemente Tira una mina dentro La casa Si vabbè raga Ma la gente gioca a fondo mappa Lì a mia mare Cioè vabbè che io prima Non stavo giocando in modo molto diverso Quindi devo star zitto È un problema ora te lo dico Io non sto più Non sto ammazzando un cazzo di nessuno In sto secondo round schifoso Sto Sagadino 91 Uuuuh Sta diventando uno di Quei nostri nemici Che avevamo le ultime volte Ma ha ammazzato sempre lui È sempre lì in fondo Anche il round prima Era sempre nei posti più sconosciuti A fare headshot Non l'ho visto seriamente Questo Dai però Non lo stanno portando Ho occhio nel compagno Sì vabbè però raga Cioè capite che quando ti trovi contro Degli individui del genere Non puoi fare molto Per fare headshot kills 24-20 Che partita di merda Proprio Io non riesco più A fare headshot Mori Oddio ho messo anche la torretta robot lì Mamma mia Meglio guarda Almeno non la portiamo Sì infatti almeno non portiamo il coso Ma secondo me la distruggo In un secondo È troppo vicino ormai il robot Ma sai cos'è Mi sa che ho capito come funziona Cioè noi sponiamo vicini al robot Quindi Adesso siamo tutti Sponiamo tutti qua vicini Potremmo fare tripla headshot E c'è Sagadino 91 Sempre Costantemente Lì in fondo A mirare Fisso Sono a fondo mappa adesso Tutti in fondo mappa adesso Perché noi sponiamo qui Loro sono schiacciati E mirano da noi Ok No ora ti dico Risulterà impossibile fare headshot Non ce la faremo mai Doppia Come cazzo hai fatto? Non ti hanno visto Eh sono in fondo da Da questa Guarda Guarda la minimappa Dove sono Ho fatto un headshot No raga Non portatelo Godo ce lo stanno Oddio Potevo fare Six on Erano tutti lì Raga Sono andati tutti lì Adesso Leo ha trovato la tecnica Dove mettersi Loro adesso si mettono Tutti in fondo Da quella parte E tu fai un giro laterale E te li becchi dal lato Sì Loro sono Impegnati a mirare dritti No Oh guarda Se ti fermi un attimo Ok Ok li rubo tutti Occhio che ce n'è uno qua Mamma mia bravo Leo E adesso loro continuano a nascere qua È uno spot No raga però non portatelo Vi scongiuro Ma io mi chiedo ma No 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 Il giocatore che vedi che sta pareggiando Perché non devi Sperare Cioè perché lo devi portare Falla durare Tanto ormai hai finito il round Dai dieci secondi No lo stanno portando Oh che palle Non sai che non ci sono Non so se ci sono Eh non lo so neanche io Perché siamo due a zero Ma credo proprio di no Vedremo ora Non ho idea di quanti Ci ho fatto Secondo me 20 massimo Alla fine io mi sono un attimo Ripreso per far arrivare A 37 kills Vediamo un po' È finita Cazzo È finita Eh vabbè C'è andata male Vediamo quanto abbiamo fatto Adesso vediamo quanto abbiamo fatto Ragazzi però Sinceramente non lo so Ma sfidere tra di noi Beh a sto punto penso che Essendo 12 minuti così Se una partita si possa anche lasciare Per intero Tanto Ma sì 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 Il problema dicevo Sarebbe stato se Avessimo proprio fatto una partita lunga E lì anche ci sarebbe stata più competizione Cioè lì avremmo potuto Provare a fare un record Ragazzi abbiamo fatto poche kills Ma la competizione Come ha detto lei Non è che ce n'è stata Ti sento laggare un botto Lo sai È molto probabile Perché la connessione Mi è scesa due tacche sul computer Vabbè ti sento tipo robotico Sembra che stai tipo morendo Sono il robot di salvaguardia Mi devono scordare Dai almeno 20 headshot Voglio averli fatti Almeno quello Non ti sento più Leo ha crashato dalla partita Mi senti? Io sì che ti sento Ma sto crashando io mi sa Medaglie 25 colpi alla testa Ho fatto io Io 33 ne ho fatti 33 a 25 Eh infatti te hai fatto 10 kills In più 8 No 7 head No 8 8 headshot in più Più o meno le cose tornano Vabbè ragazzi Questa partita spero vi sia piaciuta Anche se effettivamente Ha avuto dei punti un po' morti Che magari puoi vedere Se tagliare via un po' Ringrazio Velox Per essere stato qua E vi invito a lasciare Un bellissimo mi piace E passare da lui Anche se non so Quanto possa servirgli Però Lo stesso Ci sta Lasciate un commento Anche qua sotto Fatemi sapere Se volete vedere Altri video insieme Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Passate dai links in descrizione Classiche cose Lascio salutare Leo Bella raga Non ho grandi saluti da fare Ciao mamma Ciao mamma No e niente ragazzi Ci si becca al prossimo video Bella Ciao raga